Pippo Lanza allora 3 a 0 vittoria a Molfetta, gara 1 dei quarti di finale di Dalmonte Coppa Italia insomma un primo passo verso quello che deve essere il cammino di Trento verso le semifinali prima di un po' di riposo Sì è stato veramente importante vincere qua a Molfetta anche perché è un campo difficile ci abbiamo perso all'andata insomma 3 a 0 oggi la storia è un po' cambiata, abbiamo giocato meglio, studi fondamentali abbiamo saputo soffrire che era quello che ci è mancato appunto alla gara di andata obiettivo riuscito alla grande perché andiamo via con tante vittorie in queste feste che insomma è importante anche riposare e finire col piede giusto In chiave del match forse Trento è riuscito a mettere in difficoltà sulla battuta a Molfetta Sì abbiamo battuto veramente bene, hanno sofferto molta ricezione e c'è da dire che siamo riusciti anche a difendere abbastanza, a contraattaccare bene sono tanti aspetti positivi oggi Dopo l'Azzurro Champions League, campionato Coppa Italia insomma, meritato riposo? Sì sì adesso 4 giorni di meritato riposo e sfrutteremo veramente alla grande per riprenderci le energie mentali che ci servono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti